ciao a tutti e benvenuti sul mio canale finalmente anche nel sephora italiano sono arrivati questi cofanetti che io vedevo sempre online che so sephora americane sephora inglesi però sephora italia non non ce li aveva ancora portati questi cofanetti e l'unico difetto che vogliamo su questo cofanetto è che non ci sono scritte le colorazioni contenute c'è scritto che contiene tre full size e due mini taglie però io ho prodotti sia di sephora che di make up forever che di kat von d che di huda beauty e quindi diciamo che l'ho preso un po alla cieca sperando di non avere le colorazioni contenute all'interno di questo cofanetto che viene venduto sigillato io l'ho trovato al sephora di termini e quindi l'ho voluto prendere lo stesso un po alla cieca però secondo me bisognerebbe scrivere anche le colorazioni contenute perché se poi uno si trova con dei doppioni non è che sia proprio molto piacevole penso che sia molto conveniente perché solo huda beauty costano 22 euro quindi diciamo che il valore commerciale di questo di questo cofanetto è veramente molto molto interessante allora si apre i prodotti sono contenuti all'interno in questa maniera allora questa è la famosa tinta di sephora o rossetto liquido la numero 13 e qui ho avuto già il primo la prima sorpresa questa è merveloos ma si buonasera e che io però ho già e quindi questa non non la apro perché già ce l'ho quindi la terrò chiusa quando finirò questa ma quando la finirò mai con tutti i rossetti che ho non lo so comunque questa è la numero 13 di di sephora ed è un rossetto liquido veramente veramente ottimo mi piace molto perché non secca le labbra durata ottima e devo dire che è veramente un bel prodotto ecco il colore si vede molto bene mi scuso per gli swatch che ho fatto nel video precedente non rendendomi conto che presa dall'entusiasmo non non li ho fatti al meglio e oggi mi sono munita di luce e quindi dovrebbero vedersi meglio allora questo è il numero 13 ma è famosissimo poi all'interno del cofanetto c'è questo qui in full size io adoro questi rossetti liquidi di huda beauty sono tra i miei preferiti mi piacciono veramente molto e per fortuna questa colorazione non non ce l'ho questo si chiama ecco l'ho messo al contrario si chiama bombshell ecco qua bombshell bellissima è un nude veramente molto molto bello l'applicatore è fatto così diciamo che questi rossetti liquidi di huda beauty sono forse fra i miei preferiti la colorazione forse non mi fa impazzire perché è veramente molto chiaro non so se mi starà bene adesso si devono asciugare questi si asciugano matt tutte e due poi c'è questo qui limp lip in injection che praticamente promette di aumentare il volume delle labbra allora appena applicato è un po fastidioso perché pizzica però poi questo pizzicore passa e le labbra comunque mi sembrano rimpolpate non è non è male e quindi sono stata contenta di provare questo prodotto che onestamente non avrei mai acquistato credo che non acquisterò mai però utilizzerò questo che perché diciamo che l'effetto plumping alle labbra non è quello proprio che mi che mi entusiasma ecco poi c'è questo rossetto di makeup forever che è veramente molto bello anche questo è una full size questi rossetti sono veramente ottimi questo è un artist rouge matte nella colorazione m 400 ecco qui m 400 si dovrebbe essere m 400 ecco qui ed è praticamente un rosso alla bagliera fatta così questo rossetto è veramente molto molto bello anche la forma mi piace moltissimo stesura ottima ed è veramente un bel rosso un bel punto di rosso ecco qua molto bello secondo me e anche questo non ce l'avevo quindi mi è andata bene e l'ultimo prodotto contenuto all'interno di questo cofanetto è una mini taglia di un rossetto di kat von d che però non so se è nella formulazione nuova o nella formulazione vecchia la colorazione bellissima lovecraft e questo me lo volevo comprare e meno male che non me lo sono comprato è un bellissimo nude molto molto bello a me piacciono moltissimo i rossetti di kat von d della nuova formulazione non ne ho provato nemmeno uno ne ho diversi della vecchia formulazione e mi trovo veramente molto bene diciamo che non sento la necessità di andare ad acquistare gli altri colori questo è lovecraft bellissimo veramente bellissimo vale la pena acquistare questo cofanetto secondo me sì però andrebbero scritte le colorazioni sulla scatola perché acquistarlo così senza sapere le colorazioni contenute è un po un po un rischio per fortuna mi è andata bene perché ne ho soltanto una in più quindi facendo due conti solo la rossetto liquido di sephora e il rossetto di huda beauty solo questi superano i 30 euro quindi secondo me assolutamente assolutamente conviene e e quindi secondo me è un ottimo affare se lo trovate io vi consiglio di acquistarlo l'unica cosa non è valido nessun tipo di sconto sui prodotti di sephora però anche a prezzo pieno secondo me è un buon acquisto da fare insomma spero di essere stata utile spero di essere riuscita a mostrare il swatch meglio del video precedente per cui chiedo ancora scusa ma mi sono fatta prendere un po dall'entusiasmo grazie a tutti per aver visto il video e al prossimo ciao